Abbiamo dei ragazzi al nostro conservatorio che hanno superato una selezione importante fatta da Rai 1 e una trasmissione che ormai è un rilievo nazionale e internazionale. Ci sarà la sfida finale sabato mattina, noi ci aspettiamo che tutti i nostri concittadini diano una mano e diano una mano telefonando o inviando un sms al 478 4784 o telefonando al telefono fisso 89 44 33. Poi pubblicheremo anche sul sito del Comune i numeri in maniera tale che tutti i nostri concittadini possano sostenere le ragazze e i ragazzi che vedrete faranno un'esibizione splendida. Abbiamo sentito questa mattina un pezzo di piazzolla, veramente ci ha dato grande emozione. È la Salerno europea che sta crescendo e si propone con la propria immagine. Dopo Rocquant faccio un po' di lavoro di segreteria pure per i ragazzi del conservatorio sperando di trovarmi già un secondo lavoro. Chiamano cose sacre a chitarra e a chitarra, vediamoci chiaro, almeno per quella mia generazione. Poi dipende dalle mani e dai fiati, c'è il piano, c'è il violino, il violoncello, ogni strumento ha una sua magia. Poi ci sono corsi che riguardano il jazz, noi qui abbiamo una grande tradizione anche di jazz a Salerno, quindi veramente siamo nel cuore di un'avventura culturale alla quale la musica sta dando un grande contributo. Ho detto che abbiamo diversi profili che distinguono oggi la città di Salerno in Italia e in Europa. Salerno è la città dell'architettura, è la città della solidarietà, è la città dell'ambiente, dei parchi urbani, della differenziata, delle energie alternative, ma ormai da qualche anno è anche la città della musica per la programmazione del Teatro Verdi, per la formazione di migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi che sono veramente di livello eccezionale. Grazie mille.